per dare la caccia a un camaleonte davvero io non capisco perché sia così difficile catturare un uomo voglio la verità non puoi fermarti solo a quello che vedi posso essere un medico un ingegnere un musicista un astronauta perché ciò che stai guardando in quel momento potrebbe già essere la sua ombra no un momento non è sadafe è all'ombra no illusimbo chi diavolo è me quanti innocenti sono morti a causa del nostro lavoro cero di il camaleonte da lunedì a venerdì alle 18.05 su fx